Però ci sono stati dei punti importanti che sono stati, infatti, proprio perché il rilancio sociale si rivolge a un insieme basso di soggetti, che sono i cosiddetti stefosi, un insieme basso significa che non necessariamente sono i benicciati, che non necessariamente sono i donatori, che non necessariamente sono solo i donatori, è un insieme basso, che ho visto in pratica che nel tentare di disegnare un confine dentro e preciso non è così semplice, sono più realtà con più interessi e a volte possono essere anche interessi in conflitto. Quindi il primo aspetto fondamentale è trovare la strutturazione di tutta la mappa completa di queste corde e come questi interagiscono.